Ciao a tutti, siamo Gigi Andrea, siamo qua negli studi di Prematissimo 83, dove faremo lo spettacolo insieme ad Amanda Lire e Nadia Cassini. E poi? E poi? Gigi Sabani e Johnny Dorelli. Sì, vabbè, più che altro Amanda Lire. Ma come vabbè, per correttezza, Andrea sono importanti, devi dire Gigi Sabani e Johnny Dorelli. Vabbè, allora, tu ti prendi Gigi Sabani e Johnny Dorelli, io prendo Amanda Lire e Nadia Cassini, che perderò a calcio, però passo una bella serata lo stesso. Vabbè, ad ogni modo noi siamo qua per ricordarvi che Premiatissimo andrà in onda sabato 1 ottobre. Sì, alle ore 20 e 25, sempre sul vostro canale 5.